Il business di Gesù, Pietro voleva conoscere la sua posta in gioco con Gesù Cristo, poiché ha compromesso molte cose per il suo piacere. Pietro voleva conoscere la sua posta in gioco con Gesù Cristo, poiché ha compromesso molte cose per il suo piacere. Gesù rispose alla richiesta di Pietro e disse, sicuramente, vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato la casa o i genitori o i fratelli o i fratelli o la moglie o i figli. Per amore del Regno di Dio, che non riceverà molte volte di più in questo tempo presente e nell'epoca che verrà la vita eterna, lc18. 29 a 30, lezione. Gesù è un abile uomo d'affari e conosce il modo migliore per premiare i suoi fedeli servitori. Chiunque investe negli affari di Gesù non se ne pentirà. L'uomo non andrà mai in bancarotta. È una situazione di vittoria vittoria a servire Gesù Cristo. L'avventura vale la pena, e approfitti sia terreni che celesti. Gesù farà prosperare i suoi fedeli servitori sulla terra e li porterà anche in cielo. Preghiera? Caro Gesù Cristo, capisco che la tua è un'attività gratificante e voglio esserne coinvolto. Sono determinato a impegnarmi nei tuoi affari confessandoti come mio Signore e Salvatore personale e servendoti fedelmente per tutti i giorni della mia vita. In effetti, in questo momento sto agendo con la mia determinazione. Io, cita il tuo nome, ti confesso Gesù Cristo come mio personale Signore e Salvatore e mi pento dei miei peccati. Ti do il mio cuore e ti servirò per tutti i giorni della mia vita. Amen.